Benvenuti sul nostro canale, Kenya Man, raggiunge un nuovo obiettivo. L'attore e model turco, Kenya Man, ha raggiunto un nuovo obiettivo, nella sua brillante carriera. L'attore e modello turco Kenya Man, ha raggiunto, una nuova pietra miliare, nella sua brillante carriera. Il giovane attore in ogni fiction, e personaggio che interpreta, riesce a trasmettere molte emozioni. Il buoni haman, ha una carriera meravigliosa e variegata, e in questi mesi, ha anche lanciato nuovi progetti. In occasione del suo compleanno, a novembre, è riuscito a fondare un'associazione, Kenya Man for Children, per raccogliere fondi, da utilizzare negli ospedali, di reparto pediatrico. A novembre, però, Kenya ha entusiasmato tutti, pubblicando la sua prima, autobiografia, parlando di sé, in un libro inedito intitolato, sembra strano anche a me, e ha finalmente lanciato, la sua prima linea di profumi. Ken è diventato Ken, è ora una star mondiale. Nelle ultime ore è stato conosciuto l'elenco di IMDB star meter. Ken Yaman, è riuscito a piazzarsi al primo posto, tra gli attori turchi più famosi, a livello internazionale. L'attore turco, è riuscito a distinguersi tra le star mondiali, piazzandosi al primo posto tra, gli attori e le attrici turchi della lista. Il bel Yaman, è sempre più amato da generazioni. Prossimi eventi in tv di Ken, dopo la fine delle vacanze di Natale, Ken è tornato sul set di, Viola come il mare, nel Lazio. La fiction, sarà prodotta da Canale 5, da marzo con Francesca Chillemi. Infine Ken si è trasferito anche in Italia, per pianificare, ed impostare, le riprese della nuova serie televisiva, Sandokan, con Luca Argentero, e sabato 15 gennaio, sarà finalmente su Canale 5, nel programma di, Maria De Filippi, in, C'è posta per te, dove creerà una sorpresa speciale, per un fan. Preparandosi a incontrare presto, il pubblico turco, Ken Yaman, si è lasciato alle spalle le star del mondo. Ken Yaman, è ora una star mondiale. Ricordati il mi piace, al video, e se non sei ancora iscritta sul canale, clicca sulla campanellina, per nuove news. Il bell'attore, che ha lasciato la Turchia, un anno fa, e si è stabilito in Italia, ha fatto molta strada, in questo processo. Ken Yaman, si presenterà al pubblico turco molto presto, dopo una lunga pausa, è vicinissimo, alla vetta della classifica mondiale. Ken Yaman, che si è trasferito, per interpretare il ruolo da protagonista, nella serie tv, Sandokan dopo la serie tv, Mr. Wrong. Ken Yaman, si è classificato al primo posto, tra gli attori turchi, nei risultati di, IMDB Star Meter, che è un riferimento molto importante, per il mondo di cinema, e serie televisive. E' stato classificato 3.332 tra oltre 11 milioni di nomi famosi in tutto il mondo. Il turco, è molto vicino alla vetta della classifica mondiale. Così Ken Yaman, è riuscito a ottenere il suo nome. Scritto tra le star mondiali, dopo un anno in Italia, l'attore è entusiasta di apparire nuovamente, davanti al pubblico turco, in questi giorni. Dopo, Engin Akyurek e Aras Bulutin Emily, la piattaforma digitale internazionale, Disney+, che si prepara a iniziare a trasmettere in Turchia in agosto, è il terzo attore maschio che ha incontrato in Turchia, Ken Yaman, e si incontrerà di nuovo con il fan turchi, dopo una lunga pausa. La serie, in cui Ken Yaman, interpreterà il ruolo del protagonista, sarà filmata da Ay Yapim. La sceneggiatura, appartiene a Kerem Deren, che ha scritto, la leggendaria serie televisiva Ezel. Ma le notizie sulla serie, sono ancora molto riservate. Tuttavia, poiché il produttore, l'attore principale, e lo sceneggiatore, sono nomi molto ambiziosi, l'aspettativa è molto alta. Grazie per aver guardato il video fino alla fine. Metti un mi piace, ed iscriviti al canale per altre news. A presto!